pace bene cari fratelli e sorelle ben trovati marco 10 46 52 l'ultimo miracolo di gesù nel vangelo secondo marco prima di approdare a gerusalemme entriamo dunque nel testo lasciandoci interpellare profondamente da esso gesù parte da gerico con i suoi discepoli e lungo la strada incontra bartimeo cieco seduto a mendicare bartimeo vuol dire figlio di timeo eppure lì solo non vive la sua dimensione di figliolanza un uomo isolato da tutti che vive nella solitudine inoltre era cieco oltre al disagio fisico del non vedere la realtà quindi dell'essere un po tagliato fuori anche dal contatto con gli altri la cecità nella scrittura rappresenta la confusione lo smarrimento a volte nella vita le cose non sono chiare altre volte ci mettiamo il prosciutto davanti agli occhi pur di non vedere non a caso quando si è un po depressi ci si rinchiude al buio nel sonno molte volte potremmo dire ci rendiamo ciechi come edipo per non vedere la conseguenza delle nostre scelte o ci si è smarriti non alimentando la fede la relazione con gli altri inoltre sedeva lungo la strada quindi qualcuno che non cammina qualcuno che immobile qualcuno che mendica cioè che vive di ciò che gli altri gli danno capite che è un quadro molto profondo esistenziale quante persone sono in un certo senso bartimeo confuse bloccate che vivono e dipendono dagli altri che elemosinano sguardi attenzioni che sperimentano una solitudine profonda che va crescendosi sempre più e quante volte per cercare di colmarla si imboccano vie tortuose strade sbagliate ritrovandosi più soli di prima sentendo che passa gesù cominciò a gridare e a dire figlio di davide gesù abbi pietà di me è un uomo che non vede ma sente sente che passa gesù e ciò che in fondo viviamo noi nel contatto con cristo ora stiamo ascoltando la sua parola nella liturgia celebriamo la sua presenza e in quella ascoltare senza vedere che noi possiamo fare nuova esperienza del signore bartimeo non vede ma sente che passa gesù e manifesta una sensibilità interiore e una fiducia molto grandi qual è il paradosso molti lo rimproveravano perché tacesse da fastidio ecco una persona che cerca il signore con tutto se stesso che grida magari in modo anche scomposto ma che davvero sta cercando dio viene messa a tacere è paradossale ma a volte proprio quelli che pensano di seguire gesù diventano ostacolo per quelli lontani ma che desidererebbero veramente incontrare seguire il signore ma egli gridava ancora più forte bellissimo non si rassegna vedete la ricerca profonda del cuore qui abbiamo un dinamismo spirituale che possiamo cogliere anche per la nostra vita perché perché a volte anche la nostra ricerca di dio rischia di essere messa a tacere ci sono tante voci contrarie e non sono solo quelle delle persone che magari anche senza volerlo ci ostacolano ma san giovanni parla di tre nemici che noi incontriamo nel nostro cammino di fede e sono il mondo la carne e il demonio il mondo non intesa come tutta la realtà che ci sta attorno ma come quel modo di pensare mondano e contrario a dio che tende a banalizzare tutto ciò che di più profondo abbiamo nel cuore c'è poi la carne che indica la nostra tendenza all'egoismo e al male che ci spinge alla ricerca del piacere immediato del superficiale e c'è poi il diavolo che ci tenta allo scoraggiamento non solo al male ma a spegnere quel desiderio di bene profondo facendocelo sembrare sentire irrealizzabile questo cieco ci insegna qualcosa che nella spiritualità cristiana è stato anche ripreso da tanti santi cioè agere contro quando ti arriva questo pensiero uno scoraggiamento quando arriva una tentazione tu vagli contro e fai ancora di più vedete quest'uomo grida ancora più forte non so ad esempio è il momento della tua preghiera passa il pensiero di rimandare mettiti a pregare e stai ancora un attimino di più in preghiera ti viene un pensiero contro una persona anziché alimentarlo prega per questa persona dentro di te incontri da lontano uno che ti sta antipatico passa la tentazione di cambiare strada no vagli incontro e salutalo ecco quest'uomo grida ancora più forte gesù si ferma e dice chiamatelo anzitutto non si ferma subito interessante perché a volte il signore non risponde subito alle nostre richieste perché purifica con l'attesa il nostro desiderio quante volte ciò che inizialmente ci sembrava indispensabile nel tempo viene purificato e quella domanda cambia o viene intensificata e diventa ricerca ancora più forte di dio e unione ancora più intima con lui quindi Gesù interviene e si ferma al momento giusto e lo manda a chiamare chiamano il cieco dicendogli coraggio alzati ti chiama guardate la trasformazione anche nel modo di fare di quelli che seguono Gesù prima volevano metterlo a tacere ora hanno ascoltato il maestro e diventano davvero ponte per l'altro Bartimeo getta via il suo mantello balzò in piedi e venne da Gesù anzitutto getta via il mantello il mantello per un povero era tutto era protezione dal freddo era casa era riparo quest'uomo lo getta via getta via la sua unica sicurezza come a dirci se vogliamo davvero scoprire i desideri più profondi che abbiamo nel cuore e cogliere l'altezza alla quale siamo chiamati a vivere abbiamo bisogno di lasciare le nostre false sicurezze e ciò diventa possibile ascoltando e frequentando Cristo la sua parola capace di trasformare e saziare il nostro cuore quest'uomo lascia il mantello come a dire linus per scoprire ciò per cui è nato deve lasciare la coperta balza in piedi vedete al sentire Gesù è un verbo bellissimo come a dire risorge già vita nuova e vada Gesù inizia a camminare non è Gesù che va da lui ma Gesù gli chiede di venire da lui c'è un mettersi in marcia come a dire il signore ti interpella ti offre la sua grazia ti dona la sua parola ma chiede a te di metterti poi in cammino su quella parola e Gesù a quel punto gli disse che cosa vuoi che io faccia per te qual è il desiderio più profondo che hai nel cuore Gesù che si metta a servizio della vera felicità e del vero bene di quest'uomo e il cieco gli rispose maestro mio rabbuni che io veda nuovo questa traduzione ci fa accogliere che quest'uomo vedeva ma ad un certo punto non ha visto più indice di qualcuno che nel corso della vita si è smarrito ma potremmo anche tradurre fa che io veda in alto che io inizi a vedere le cose dalla loro vera più bella prospettiva che io riacquisti quella dignità meravigliosa che mi fa figlio di Dio capace di vedere le cose dall'alto e di non razzolare nel basso per tutta la mia vita e Gesù gli disse va la tua fede ti ha salvato e da quel momento il cieco guarito iniziò a seguirlo per la via quest'uomo inizialmente cieco solo dipendente dagli altri ora finalmente vede cammina con gli altri e segue Gesù lungo la via anche per quest'uomo c'è una via da seguire e quella via è Gesù che il buon Dio vi benedica pace e bene a tutti